Un saluto e bentrovati alla voce delle istituzioni, ospite in studio quest'oggi, Marco D'Ambrosio, il sindaco di Lorenzago di Cadore, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. Iniziamo con un bel progetto che vi ha visti collaborare con l'amministrazione di Vigo, si tratta dello studio assistito, ce ne parla? Allora noi abbiamo le scuole, il mondo della scuola in comune con l'amministrazione di Vigo da un sacco di tempo, da molti anni, quindi la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono a Vigo, sia per Lorenzago che appunto per Vigo, e la scuola secondaria di primo grado, le medie praticamente, sono a Lorenzago per tutti e due i comuni. E diciamo che in questi anni abbiamo, tutte le amministrazioni hanno sempre avuto un occhio di riguardo per la scuola, ma in questi anni stiamo investendo parecchio, quindi anche noi, sia noi per i nostri plessi, per i nostri edifici, sia Vigo per i suoi abbiamo investito anche in questi anni facendo dei lavori di miglioramento, di ammodernamento, e poi ci sono questi progetti che cerchiamo di portare avanti assieme, come ad esempio a Vigo c'è il rientro pomeridiano con uno studio assistito per i ragazzi delle elementari e anche per quelli delle medie che vogliono andarci, e a Lorenzago abbiamo questo studio assistito che è gestito da volontari, viene fatto in comune, e un pomeriggio a settimana, il mercoledì, dalle 15 alle 17, ci sono appunto dei volontari, anche degli ex insegnanti in pensione, che hanno, si sono dedicati a questo progetto, e lo portiamo avanti già da tre anni, insomma. Iniziato in periodo di Covid abbiamo pensato di continuare, visti i buoni risultati. Com'è l'andamento delle iscrizioni negli ultimi anni? L'andamento delle iscrizioni è sempre un po' sul filo del rasoio, perché i numeri sono risicati, spopolamento, piccoli comuni, pochi bambini, poche nascite, però insomma noi teniamo duro, abbiamo anche le prove invalsi delle nostre scuole che sono buone, quindi contiamo anche in iscrizioni, magari anche da fuori. Poi ci sono pochi insegnanti, pochi alunni, scusate, e quindi possono essere meglio seguiti, e poi ci sono anche dei progetti di collaborazione col territorio, con il CAI, con la Proloco, con tante altre associazioni che sono un surplus per la scuola, perché fanno conoscere appunto il territorio e fanno apprezzare ai nostri ragazzi, i nostri paesi, quello che c'è di piccolo, di poco, ma c'è nei nostri paesi. Che peraltro è apprezzato anche dai papi, Lorenzago, terra di papi, di recente abbiamo anche dato l'addio a Ratzinger, sul turismo religioso avete qualche progetto in mente? Ecco, noi abbiamo puntato sul santuario, su un santuario all'aperto dedicato appunto a San Giovanni Paolo II, poi c'è il museo dedicato alle presenze dei papi, San Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI, e quindi l'orientamento di puntare sul turismo religioso c'è. Adesso tornerà in auge anche il discorso della via dei papi, con il comune di Canale d'Agordo, ne parleremo, ci troveremo e ne parleremo, anche perché finalmente, dico, abbiamo un beato nostro che è Papa Luciani. E sempre nell'ambito di turismo religioso abbiamo anche, diciamo, pensato di procedere alla ristampa di una rivista che era uscita qualche anno fa, dedicata appunto alle presenze dei pontefici nella nostra terra e ampliata anche a Papa Luciani, con degli interventi del Cardinale Stella, postulatore, degli interventi del Cardinale Stanislao, segretario di Vojtila, e degli interventi del Cardinale Scola per quanto riguarda Papa Benedetto XVI. Quindi noi ci teniamo molto a questo progetto, a questi progetti di turismo religioso, tanto è vero che anche con il Museo del Papa abbiamo provato, stiamo provando a partecipare ad alcuni bandi PNRR per riuscire a fare dei lavori e a pubblicizzare e finire quello che già è partito. Secondo lei dopo la beatificazione di Luciani si è un po' riacceso l'interesse per questo tema o è solo così una cosa passeggera? Forse è un po' prematuro per dirlo, visto che c'è stato comunque in settembre, ma come la pensa? Ma io credo di sì, credo sia importante, sia fondamentale che ci sia una cabina di regia per questi eventi dove ovviamente deve far parte, di cui ovviamente deve far parte la diocesi con i comuni di Canale Vagordo, soprattutto di Lorenzago, ma non dimentichiamo anche Belluno e non dimentichiamo che in molte parti d'Italia e in molte parti d'Europa il turismo religioso fa anche bei numeri. Io a proposito ringrazio ancora i volontari che d'estate gestiscono il museo e anche ringrazio veramente di cuore le persone che si sono prodigate per la realizzazione del santuario, in particolare la vita Ivecos e in particolare Giorgio Gerardini e tanti che si sono veramente impegnati per questo. Adesso il compito nostro è mantenerlo insomma. Cambiamo argomento, parliamo della questione del lupo, quali sono le potenzialità, le azioni messe in campo per arginare questo problema? Che parte tra l'altro, possiamo partire con questo discorso, da un fatto di cronaca, un avvistamento? Allora diciamo che gli avvistamenti sono stati due o tre, proprio anche registrati, filmati da telecamere di sicurezza eccetera. Poi ci sono state anche delle predazioni, non su animali domestici, fortunatamente su animali, su selvatici, su cervi e caprioli e di cui abbiamo subito e prontamente informato il corpo di polizia provinciale. Allora io assieme ad altri sindaci abbiamo mandato una nota anche al prefetto che ha convocato poi un incontro qualche tempo fa a cui abbiamo partecipato. Allora fondamentale per quanto mi riguarda e per quanto è emerso anche da quell'incontro è la comunicazione, nel senso far conoscere alla gente il problema, far capire alla gente come affrontare, come convivere con questo problema. E un'altra cosa importante è che per spiegare questo fenomeno ci siano delle persone competenti, preparate e quindi noi in collaborazione anche abbiamo chiesto la collaborazione appunto dell'amministrazione provinciale e organizzeremo un incontro, un paio di incontri per far capire alla gente intanto quella che è la realtà del lupo e per far conoscere anche meglio insomma questo animale da persone che lo stanno fra virgolette gestendo, controllando, monitorando e che conoscono bene cosa c'è, cosa avviene, cosa accade sul territorio insomma. Lei che conosce bene i suoi cittadini c'è diciamo tensione tra la popolazione in seguito a questi avvistamenti oppure? Eh diciamo che un po' di paura fra virgolette c'è insomma perché essendo una specie nuova per i nostri territori o meglio che ritorna perché in passato c'è già stata per i nostri territori non si sa come affrontarla, non si sa se effettivamente questo lupo possa essere un pericolo anche per gli esseri umani, non solo per gli animali e quindi è doveroso insomma tranquillizzare e informare in modo ripeto corretto. Parliamo del progetto di poste italiane Polis che ha interessato anche il vostro comune, di cosa si tratta e ci sono dei benefici diciamo reali secondo lei? Allora io ringrazio ancora una volta poste italiane e ringrazio ancora una volta poste italiane perché sta lavorando in questi anni per i piccoli comuni. Allora da qualche anno organizza poste italiane un convegno a Roma appunto per far conoscere quella che è la progettazione di poste italiane per i piccoli comuni. Lorenzago fa parte ancora una volta perché già è stato installato un postamat un paio ad anni fa che era una cosa molto importante per noi perché avendo chiuso la filiale della banca i miei cittadini dovevano uscire dal paese per poter prelevare. Quindi l'inserimento di questo postamat è stato fondamentale, fortemente voluto anche dall'amministrazione e post italiane ha accettato, ci ha creduto e lo ha installato. Quindi io ringrazio ancora poste perché col progetto POLIS di cui appunto fa parte anche l'ora in cui rientra anche Lorenzago, sistemeranno la parte interna dell'ufficio postale inserendo delle colonnine dove il cliente, il cittadino può richiedere dei servizi, dei documenti, la carta di identità, il passaporto, specifici documenti. Quindi è una cosa in più, è una cosa importante e l'unico problema sarà che i cittadini sono sempre più vecchi, sempre più anziani. Quindi sarà da cercare, da trovare un sistema per aiutarli in questo eventualmente. Parliamo delle situazioni ultime internazionali che hanno portato comunque a dei rincari energetici molto pesanti sia per le persone che per l'amministrazione. Nel vostro caso? Allora anche noi abbiamo sentito ovviamente di questi rincari sia in ambito corrente, energia elettrica che in ambito gas. Fortunatamente ci sono stati dei ristori governativi su questo che non hanno però riempito tutto il gap dei costi. Comunque ci sono stati. Un esempio che voglio fare, tornando al discorso scuola, una bolletta del gas del mese di dicembre è stata molto alta, diciamo un 40% in più rispetto all'anno prima. Quindi questa cosa ci ha fatto riflettere, ci ha fatto pensare e sarà da valutare anche la ricerca di qualche contributo per energie rinnovabili, tipo il fotovoltaico per la corrente o qualcosa del genere, insomma. Anche perché se questo è quello che c'è davanti, quello che ci spetta, dobbiamo cercare una soluzione, insomma. Non voglio però dimenticare anche i rincari dei materiali, perché in un progetto su cui noi abbiamo ottenuto un contributo di 80 e più mila euro, poi ci è mancato un 20% appunto perché c'è stato un aumento del materiale. Quindi per poter finire quel progetto abbiamo dovuto aspettare di trovare dei fondi nostri per poter metterli assieme e finire il lavoro. Questo è il lavoro del Capriolo, che è un edificio, un ex edificio, un ex bar comunale che era in abbandono, in disuso, è stato abbattuto e ricostruito grazie a un contributo, però appunto non finito, non terminato, perché ci mancava, c'è stato questo aumento dei prezzi. Veniamo alle cose più piacevoli, siamo quasi in chiusura. Attività estive, cosa bolle in pentola in quel dire Lorenzago? Beh, a me piace ricordare sempre Lorenzago Aperta, Vito Vecellio, Francesca Casanova, che ancora una volta, per il ventitreesimo anno, organizzeranno questa mostra. Non è solo mostra, perché è una serie di eventi. Mostre, concerti, conferenze, una scuola, nel senso che fanno dei corsi, quindi una serie di cose. Però poi si è aggiunta anche la scuola della fresco, di cui abbiamo parlato abbondantemente anche altre volte. E fra l'altro, parentesi, in questi giorni alla scuola media c'è stato un intervento del maestro Vico Calabrò e quindi anche lì ha sensibilizzato i ragazzi a partecipare ai corsi che organizzerà la scuola della fresco in primavera, che non sono solo a fresco, ma sono corsi di fotografia, corsi di intaglio, corsi di xilografia, corsi di tutte le arti possibili, insomma, a cui noi invitiamo tanta gente a partecipare, perché il Comune ci crede, la Proloco ci crede, quindi diamo soddisfazione a queste persone che dedicano il loro tempo per gli altri. Le chiedo, secondo lei, oltre chiaramente ai ragazzi che partecipano a questi corsi, ci sarà in futuro un ricambio? Mi spiego, quelli che adesso partecipano potrebbero in futuro diventare artefici della vita culturale del paese? Ma noi lo speriamo, nel senso una dimostrazione forse lo è stata anche Lorenzago Aperta, perché in 23 anni qualche artista o qualche figlio di artista che magari andava a vedere la mostra, o qualche persona, semplicemente, che non aveva niente a fare con l'arte, che andava a vedere la mostra, si è invogliata, è diventata fotografo, pittore o qualcos'altro e ha esposto poi in Lorenzago Aperta. Quindi l'augurio è che questo avvenga anche con Lorenzago Aperta. Richiama anche persone da fuori comune, immagino? Sì, indubbiamente. I corsi di Lorenzago Aperta hanno richiamato tanta gente da fuori e Lorenzago Aperta anche, perché il 90%, diciamo, anche il 99% degli artisti che espongono sono fuori Lorenzago, provincia e anche Italia, possiamo dire. Con questa nota positiva chiudiamo la nostra intervista con Marco D'Ambros, grazie ancora. Grazie a voi, grazie a te Level 1 per quello che fate per il nostro territorio. È un piacere. Grazie a voi per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti.